. Verrà un nuovo giorno, ti auguro tanta fortuna e felicità Con i tuoi cari, oggi è lunedì 22 marzo 2021, per favore tratta tutti intorno a te e pensa positivamente Quali sono i segni oggi? Guarda il video per sapere Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi Oroscopo Leone.In viaggio, almeno con la fantasia Viaggiare si può, volendo, non necessariamente con la macchina del tempo, anche semplicemente con l'aiuto di un romanzo Un pezzo musicale, un odore Che vi porti indietro, sulla scia dei ricordi A condizione che siano belli però, e con il sole da ieri e quest'oggi anche venere in ariete intrigono al vostro segno Dovranno esserlo per forza, malinconia . Può starci, dolce però, come segnala la luna pomeridiana scivolando nella vostra dodicesima casa Magari dopo aver rievocato sui social con gli amici Perto tantissimo e soffrirete ancora Distrarvi e di uscire E' un periodo fortunato a patto che sappiate leggere tra le righe Dei vostri oggetti personali da qualche parte E' consigliabile comunque cautela in campo professionale ed economico Se siete nati in luglio Capitolo lavoro Mettete da parte le preoccupazioni Tutto si risolverà presto . Luna favorevole e giove nel tuo cielo Si prospetta una lunedì molto ricca di passione e determinazione In amore, riuscirai a far colpo su quella persona che tanto ti interessa Professionalmente, invece, finalmente hai avuto l'idea che potrebbe migliorare la tua situazione lavorativa Ci sono diverse problematiche da affrontare in questa giornata Molti delle quali riguarderanno la vostra famiglia e le vostre difficoltà nel prendere alcune decisioni Non tutto può sempre andare secondo i vostri piani Ma non è certo la famiglia ad essere il problema . Provate a rendere le vostre attività più lineari In modo da non avere i soliti intotti Vedrete che tutto prenderà una piega differente e molto più positiva per voi Super la mattinata con la luna frizzante in se stile sia al vostro segno, sia al sole focoso in ariete Raggiunto nel pomeriggio anche da venere Peccato che in contemporanea la luna traslochi scivolando nella vostra dodicesima casa Altrimenti il piacere sarebbe stato completo Amore ed eros, il sentimento tocca i vertici dell'idealismo e della generosità Non solo nei confronti dell'amato bene, ma di tutti coloro che vi sono cari, del mondo intero, della natura Piccolo screzzo serale subito risolto L'orgoglio fa parte del vostro segno, ma il vostro grande cuore vi impedisce di tenere a lungo il muso Siete ben consci del fatto che la vostra prestanza potrebbe fare godere di piacere il partner, ma a voi interessa solo la certezza di essere affascinanti Se siete della prima decade, saranno più di uno gli individui che si adopereranno per voi, ma voi non vi sentirete ancora pronti per legarvi definitivamente . Giove continua a non darvi tregua e a non farvi demordere da imprese sentimentali anche abbastanza audaci La sua presenza nel segno nemico amatissimo dell'acquario è stimolo di successo e di vittorie anche consistenti, anche se ottenute con notevole spiegamento di energie . Per tutte e tre le decadi leonine . Certo, l'economia dello zodiaco piazza spesso almeno un pianeta ad aggiustare le sorti e quindi eccovi Marte a sostenervi Ricordate però che in questo momento è giusto proporzionare le vostre ambizioni sentimentali in base alle vostre reali possibilità, giusto per imporvi freni salutari di saggezza . Lavoro e denaro, contatti con persone conosciute tempo addietro in vacanza . Ma ancora ben presenti tra gli affetti irrinunciabili, evidente che avete impattato se il ricordo è ancora così vivido Messaggi e foto da amici di tutto il mondo, da veri strioni state diventando internazionali e che voglia di viaggiare . Parlandone con i vecchi compagni di gite vi viene quasi il magone, quante avventure, quanti luoghi meravigliosi goduti insieme ora sono soltanto file foto . Potreste almeno viaggiare con la fantasia o fare progetti per un futuro imprecisato, meglio di niente . Le stelle di oggi non si presentano per nulla positive . In affari è consigliata la massima prudenza . Evita le spese, specie se azzardate, e rimanda ai contratti . I nati della prima decade dovranno frenare l'impazienza ed evitare di dare fuoco alle polveri in una situazione di antagonismo con un collega del leone . Avete chiuso ieri la settimana con energia e piglio risoluto Venere entrata nel segno amico della riete alle ore 15 e 17 vi fornisce intuizioni eccezionali, da sfruttare per la settimana entrante . Bene essere, smart in mattinata con una lieve caduta di tono pomeridiana, nulla di strano, anche voi, nonostante siate bionici, di tanto in tanto avete bisogno di riposo . Per tirarvi sul massaggio della pianta dei piedi con un rullo, oppure una stimolazione dei meridiani di agopuntura dandovi dei colpetti con il taglio della mano lungo le braccia, le gambe alla base del collo . Ulteriore rivitalizzazione stropicciandosi energicamente le orecchi, provare per credere . Per riattivare la circolazione ed eliminare gli inestetismi della cellulite, dovrete fare delle belle corse in palestra per almeno 30 minuti e assumere alghe fucus . Per lei, che peccato, quel bel vestitino primaverile di foggia un po' esotica che vi piace tanto rimarrà nell'armadio, per quanto native di un segno modaiolo, in casa state più comode con la vostra tuta sformata . Tanto, chi vi vede, punto. Per lui, corsetta mattutina in cortile, rigorosamente da soli però, che tristezza! Non fosse perché al fisico giova, mollereste subito. Ma almeno eviterete che vi cresca la pancia, punto. . Colore delle emozioni, fragola, punto. Barometro dell'umore, sereno, punto. Pagellina del giorno, sentimenti, 10, attività, 8, finanze, 8, benessere, 8, punto. . Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox, punto. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali, non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno, ci vediamo. .